Buongiorno, buon lunedì 11 novembre, questo è il pranzo di oggi, mezzo polletto e tanta insalata mista, prima l'insalata e poi il pollo, che io inizio i pasti sempre mangiando l'insalata per primo. Aggiornamento dieta, sono arrivata a 90 kg, in tutto ho perso 33 kg dall'inizio della dieta, ero partita da ben 123 kg, oggi sono 90, da due settimane ho tolto la cena, mangio fino alle 5 di pomeriggio e poi basta, la sera prima di andare a letto mi faccio una bella tisana e poi la mattina faccio una colazione abbondante, se proprio ho fame mi mangio anche uno yogurt, sto facendo questa prova per togliere la cena per sbloccare un po' il metabolismo, perché ero andato un po' in stallo e ho aumentato le passeggiate, cammino un po' di più, era funzionato, di fatto sto continuando a dimagrire, adesso finisco di mangiare e mi preparo per andare a lavoro, buona giornata a tutti, un bacione!